Attenzione perché è pericoloso Protegge palla col corpo È in buona posizione Sapata Vantaggio che comincia a farsi importante Due gol da recuperare ora per gli avversari E ancora presto però per cantare vittoria Eh si fa dura per loro Anche perché oltre a tentare di segnare Devono fare attenzione a non subirne altre imprese Non facile per quanto si è visto Finora